Ci sarà una copertura molto ampia, non sarà lasciato nulla al caso, la risposta sarà molto forte perché Arezzo è una città sicura e deve restare tale. Controlli mirati e una maggiore collaborazione da parte degli esercenti, è questa la ricetta scaturita dal tavolo per la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura per arginare quanto accaduto in piazza della Badia ad Arezzo negli ultimi fine settimana. Più presenza di forze dell'ordine e se sì dove? La presenza delle forze dell'ordine, lo ricordiamo, è capillare sul territorio, in più saranno aggiunti dei servizi dedicati proprio al fenomeno della Movida quindi saranno dei servizi aggiuntivi che verranno espletati nelle zone più frequentate. Ci sarà un controllo maggiore, una stretta maggiore rispetto a quello che diceva il prefetto, cioè la sua amministrazione di alcolici? Beh sì, vorremmo fare dei servizi mirati anche in questo senso perché è chiaro che anche gli episodi che si sono verificati ulteriormente sono stati episodi che derivano dall'uso di sostanze stupefacenti o comunque di uno sciortino in più è evidente che si tratta non di persone o di ragazzi soprattutto che sono assolutamente limpidi e trasparenti quindi è evidente che il nostro scopo è quello di intervenire anche sui locali ma sull'aiuto chiederemo proprio una collaborazione degli esercenti quindi le regole però vanno rispettate quindi non soltanto dai ragazzi ma anche da tutti gli altri attori in questa situazione. La maxi area pedonale decisa dal comune di Arezzo per adesso non è in discussione. Per ora la maxi area rimane tale e quale anche perché il problema non è conseguente alla maxi area tant'è che le due risse che ci sono state sono state alle due e mezzo la notte quindi era già due ore e mezzo che l'area era aperta, tutte le aree erano aperte quindi non è quello il problema. Chiaro è che così come è stato concordato con l'associazione di categoria prima di portare la delibera se vi fossero comportamenti che vanno contro quello che è il buonsenso e comunque che vanno contro le regole prenderemo provvedimenti anche in quel senso.